Mancano circa due mesi alle prossime elezioni comunali a Giffoni 6 Casali, ma il mondo politico locale è già in fermento. Ma prima ancora di poter parlare di liste e possibili candidature, a tenere banco è la riduzione del numero dei consiglieri, previsto dalla legge, che sembra condizionare la composizione di ciascuna lista. Le nuove norme introdotte dalla finanziaria, in vigore dal 1 gennaio 2011, prevedono un consiglio comunale di appena 7 consiglieri oltre il sindaco, in comuni dai 3.000 ai 5.000 abitanti. In teoria, questo sarebbe il caso di Giffoni 6 Casali, che nel nuovo consiglio comunale avrebbe 5 consiglieri di maggioranza e soltanto 2 all'opposizione. Insomma, una riduzione di circa il 20%, che rende piuttosto selettiva la scelta di ciascuna candidatura per le prossime elezioni. Ma a mescolare ulteriormente le carte, c'è l'attuale numero degli abitanti di Giffoni 6 Casali, del tutto diverso dal censimento preso in considerazione. Il censimento di riferimento risale al 2001, quando gli abitanti giffonesi erano 4.168. Ad oggi la popolazione è molto più numerosa, per un totale di 5.300 abitanti, un numero sufficiente per poter aumentare i consiglieri comunali da 7 a 10, oltre il sindaco. Ma il censimento 2011 ancora non è stato ultimato e non può essere preso in considerazione. Di conseguenza Giffoni 6 Casali, nonostante i 5.300 abitanti attuali, è collocato tra i comuni, con una densità demografica nettamente inferiore. Il numero dei candidati in ciascuna lista sarà quindi ridotto e questo potrebbe comportare la composizione di ulteriori liste. A questo punto la corsa alle comunali non sarebbe più a due, tra l'uscente Marotta e il suo ex vice sindaco da conto, ma nuovi volti potrebbero far capolino sulla scena politica preelettorale.